Salve, sono Pietro Ciancaglini, insegno le materie contrabbasso jazz e basso elettrico al Conservatorio Fresco Baldi di Ferrara. Durante il mio incontro parleremo delle caratteristiche specifiche di questi strumenti e di come vengono impiegati nella musica jazz e nei generi di musica moderna da essa derivati. Inoltre potrete farmi domande su come si studia in conservatorio. Vi aspetta gli Open Days Online nei giorni 26 e 27 giugno.